Don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica di Santa Croce, quarta edizione della Notte Sacra a Torre del Greco. Cosa significa per la città? Ritorna la Notte Sacra, la quarta edizione, 14 ottobre 2018, sono sei anni dalla canonizzazione di Vincenzo Romano. Attraverso tutte le espressioni dell'arte, ma soprattutto della preghiera e della spiritualità, cerchiamo di tenere viva la testimonianza e l'originalità del nostro santo parroco Vincenzo Romano. Vincenzo Nocerino, direttore artistico della quarta edizione della Notte Sacra a Torre del Greco, il programma della manifestazione. Ci saranno i madonnari della scuola napoletana che omaggeranno San Vincenzo Romano con l'arte effimera dei Gessetti. Poi c'è la presenza e spazio ai giovani della pastorale giovanile e anche a realtà locali, associazioni culturali e il forum dei giovani, che organizzeranno degli eventi sul sagrato della Basilica di Santa Croce con artisti emergenti ed esposizioni. E poi la Notte delle Radici, che è il Festival di Rittimi e Sunni del Sud, dove verrà la partecipazione di Tony Esposito, etnica di Tirambo in France e Giancarlo Paglialunga, direttamente dalla Notte della Taranta, per suggellare il rapporto con la musica salentina e le tradizioni del Sud. E poi avremo anche la presenza di Mimmo Maionico e Pietrarsa, con la partecipazione di Giovanni Mauriello, fondatore storico della nuova compagnia di canto popolare, e poi Tototoral Bartista di Torre del Greco e Lunaia Nara. Conto Giosuè, nell'ultima ricorrenza che abbiamo avuto nella nostra Basilica di Santa Croce, abbiamo anche rafforzato l'idea di, nel nostro Santo Padrono, come copadrono della città di Torre del Greco, insieme alla figura di San Gennaro. Questo è un altro motivo forte per cui questa Notte Sagra va a identificarsi sempre di più nel cittadino di Torre del Greco e non solo nella città di Torre del Greco. Teniamo conto che noi imperdiamo molto la nostra volontà anche su un turismo religioso, su quello che interessa alla comunità, di portare la nostra immagine, l'immagine del nostro Santo, non solo nella nostra città, non solo nella regione campania, ma in tutta la nostra nazione. Grazie a tutti.